Bene, così cari amiche e cari amici siamo arrivati al settimo match qua a Riccione in questa bellissima location, tanto pubblico e che dire, le cose stanno andando molto bene il tempo ci ha graziato oggi e vediamo e godiamoci questo bellissimo settimo match siamo alla categoria pesi leggeri, 60 kg elite fra Elena e Gelsi contro Tessari e Bianca Maria che è molto alta 39 anni per Elena, coraggiosa, di fronte alla Tessari Bianca Maria che ha tantissimi match 75 match ragazzi, è vicina al professionismo, comunque cuore, anima, cuore e coraggio per la nostra Elena Gelsi della Carabini Italica Box, all'angolo abbiamo visto Ricchi, ha provato il sinistro l'Elena ma si deve avvicinare chiaramente per portare i colpi alla Bianca Maria della sempre avanti di Bologna generosa, generosa la nostra Elena Gelsi che ha accettato questo match la sua avversaria ha dato forfait e negli ultimi due o tre giorni gli hanno trovato questa Tessari Bianca Maria che è una stella nascente nel panorama pugilistico femminile è un test comunque, è un test di prova molto valido per Tessari Bianca Maria perché Elena Gelsi ha 18 match, 7 vittorie, 9 sconfitte e 2 pari ma si sa difendere, l'ho vista molto carica nel pre-gara un test è importante per la Bianca Maria e così scadono i primi 10 secondi di questo primo tempo Corpula, figlia d'arte e siamo arrivati così alla seconda ripresa vediamo che cosa succede qua fra la Gelsi Elena e la Tessari Bianca Maria vediamo l'Elena bene, 1-2 di Elena che si deve avvicinare buoni, buoni colpi al corpo di Elena sta accettando tutti i rischi la Bianca Maria leve molto lunghe lavora con il Jeb lavora di fino la Tessari adesso bene, è arrivato quel gancio destro da parte di Elena a certi rischi, è arrivato un sinistro l'Elena sono 20 centimetri di differenza la Tessari Bianca Maria 56 match, 56 vittorie 16 sconfitte e 3 pari 75 match ragazzi come dicevo prima vicinissima al passaggio tra i pro giovanissima giovanissima, 23 anni bene, bene la Elena generosa, generosa Elena sta mettendo sul ring tutta la sua esperienza adesso adesso un Jeb un Jeb l'incontro di Bianca Maria scadono anche questi ultimi 10 secondi di questo secondo tempo sta tenendo sta tenendo bene sta tenendo bene Elena brava, brava, brava Elena amici questo match tutto al femminile sta volgendo al termine siamo arrivati alla terza ripresa di questo settimo match Elena coraggio, cuore di Elena cerca di avvicinarsi accetta tutti i rischi porta le corde la Bianca Maria adesso ha rifilato un sinistro l'Elena grande, grande cuore di Elena d'altronde d'altronde 75 match di Bianca Maria fanno la differenza e anche e anche l'età però si sta comportando bene bene, bene, bene ragazzi bene grande cuore di Elena la nostra vera romagnola doc brava la conduzione di gara di Alessia Arpula brava brava decisa movimenti anche giusti sul ring forza Elena forza Bianca Maria siete arrivati al termine di questo terzo round di questo settimo match adesso è arrivato un jab sul volto di Elena bene, bene, bene Elena si sta difendendo molto, molto bene balla sul ring tessari Bianca Maria comunque ha fatto ha fatto il match tutto Elena è stata lei a inseguire a seguire la la sua avversaria onore al merito adesso un destro un destro ancora un altro destro di Bianca Maria brava brava Eli così adesso con il jab con il jab la tessari forza forza ragazze sta per finire il sta per finire il terzo round di questo settimo match brave 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 adesso aspettiamo aspettiamo il il verdetto comunque Elena ha fatto un bel ha fatto un bel match generoso non si è tirato indietro anzi ha sempre attaccato e aspettiamo cosa hanno deciso i giudici forse per me avrei dato la vittoria ad Elena ma è stata molto brava è stata molto brava la tessari Bianca Maria vedremo che poi alla fine porterà a casa il match comunque è una Elena Gessi si è comportata bene via vediamo a chi e all'angolo blu porta a casa il match ma grande grande cuore di Elena che davanti al Terminator Tessari Bianca Maria il Terminator non ha proprio sfigurato non ha